Nei trentaduesimi di Coppa Italia il Castelnuovo è tornato tra le mura amiche ma a porte chiuse stacca il pass per i sedicesimi vincendo per 3-0 contro il vasto Girardi. Prossimo avversario è la Cinzia Albalonga vincitrice per 3-1 nel derby casalingo-laziale con l'Aprilia al sorteggio. Dunque chi delle due formazioni giocherà in casa. Subito squillo per i locali Bolo conclude da ottima posizione palla fuori di poco sempre il numero 10 vuole griffare il vantaggio Carriero disinnesca in corner. I Terramani vogliono mettere la freccia da un calcio d'angolo batti ribatti urlando per due volte non riesce a confezionare l'1-0. 1-0 che arriva al ventitresimo Morelli riesce a far pervenire la sfera presti anni che davvero rapace sigla la rete del meritato vantaggio. Il gol rompe gli equilibri dopo due giri di lancetta e foglia. Roventa il mancino sulla ribattuta Bolo in posizione regolare, ributta il centro e presti anni realizza doppietà e doppio vantaggio. Il vasto Girardi prova a reagire ma né Salatino né Mingiano riescono a scardinare la retroguardia Vomana in un'azione insistita. La prima occasione degna di nota per gli alto molisani arriva al 35esimo dai 30 metri. Ancora Mingiano esalta i riflessi di Natale. Dalla parte opposta splendida conclusione Giro di Morelli. Sfera di un soffio in angolo. L'11 di Prosperi si rende pericoloso sempre da palla inattiva. Questa volta è Salatino a impegnare Natale che ancora una volta smanaccia sul fondo. Nella ripresa ci prova subito Salatino con un controbalzo. Natale ancora una volta disinnesca con un colpo di reni. I ragazzi di Mister Di Fabio vogliono chiudere la contesa. Bolo ci prova dalla distanza. Ancora una volta pallone in corner dalla bandierina. Orlando incornata però sul fondo. I neroverdi vogliono mettere in ghiacciaia il passaggio del turno. Prima Bolo arriva sul fondo ma il suo scarico non trova nessun compagno libero. Successivamente Prestianni sfiora la tripleta con Carriero che si travesse da Superman. E salva i suoi. Nel finale ancora Mingiano a provare a siglare il classico gol della bandiera. Senza però troppa fortuna dalla parte opposta. Prima Modugno e poi De Gidio. Provano a scendere il Tris. Tris che arriva a tempo scaduto con lo stesso De Gidio. Bravo a incunnearsi e a beffare l'incolpevole Carriero. Nel prossimo turno dunque il Castelnuovo sfiderà la Cinzia al Balonga. Vincitrice quest'oggi nel derby Laziale con l'Aprilia. Si torna a vincere è vero ma c'è la partita con la canna e se non abbiamo ancora persa. Ancora tutta da giocare quindi a parte gli scherzi penso che oggi la squadra sia andata in campo proprio concentrata, determinata. Abbiamo visto in campo magari qualcuno che in questa parte di campionato ha giocato meno e mi ha fatto capire di esserci e quindi di poter contare su tutto questo gruppo ma io non avevo assolutamente dubbi. Quindi questo fa solamente crescere ancora più autostima in tutti quanti. E' vero quello che hai detto tu, vincere aiuta a vincere. Dobbiamo appunto adesso mettere già subito da parte questa partita, prendere le buone cose che abbiamo fatto e pensare in questi altri tre giorni a lavorare per la trasferta di chiedi. No, abbiamo fatto male invece. Abbiamo fatto male nell'atteggiamento, nell'essere rimasti sorpresi da una partita vera. perché anche se la Coppa Italia era una partita vera abbiamo perso quasi tutti i duelli il primo tempo. Abbiamo perso tantissime cose nell'attenzione, magari qualcosa nella qualità del gioco potremmo perdere perché quando abbiamo giocato credo 9-11 nuovi ci può stare. Però ci alleniamo tutti insieme, ci alleniamo tutti insieme alla stessa maniera, non chi gioca e chi non gioca, tutti uguali, quindi la partita non mi è piaciuta per niente.